Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calarosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Si infiamma il mercato della Fiorentina C'è attesa il fermento per il grande colpo Frank Ribéry L'accelerata, che potrebbe essere quella decisiva, è arrivata nel corso della mattinata Adesso i legali sono al lavoro per risolvere gli ultimi aspetti contrattuali L'accordo di Massima dovrebbe girarsi sulla base di due anni a 4 milioni a stagione Più ulteriori bonus legati a golle da assist Senza intoppi il francese potrebbe arrivare in Italia già domani mattina Ma il mercato della Fiorentina non si fermerebbe comunque qui Nella testa del presidente commisso c'è infatti l'idea di regalare a Montella un nuovo esterno Che potrebbe uscire dalla ristretta cerchia di nome tra Berardi e Suso Intanto il club toscano rinnova il rapporto con la Val di Fassa Moena sarà infatti per l'ottavo anno consecutivo meta del ritiro Stivo Gigliato Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola A cura di Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi